Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla E siamo tornati su Kingdom Hearts Siamo sempre in compagnia del nostro caro amico Terra E devo dire che rispetto all'ultimo video che ho portato Che è quello dove abbiamo visto Master Xenorth Se non sbaglio Che ci ha dato una missioncina Una richiestuccia Da po' Nulla da A cui pensare Io sono ritornato nell'arena miraggio Perché sto cercando di Tirare giù quel coso E come potete vedere siamo al livello 23 ragazzi E abbiamo magnete A livello massimo Scontro aereo A livello massimo Blizzard A livello massimo Energiera Stavolta invece di energia E fire E si Ho equipaggiato la Keyblade Quella dei sette Dei sette porci Di come cacchio si chiamano I sette nani Oggetti Equip Visto Perché mi serviva Un qualcosa Perché qua ho le debole di magia Qua bene o male Però Beh ade per ora Teniamo questa Perché è la più buona Che ho Dobbiamo far visita Al giardino radioso Livello battaglia 4 Ma siamo nel livello 23 Mi sa che questa Ce la sciagliamo Proprio Ecco Ben Ah quindi Paperone Eccala Minchia ma Terra c'hai una fortuna Tu eh C'è terra Se non vai in un mondo E non ti trovi In Essence Non sei nessuno E vamos Con lo batte E là C'è proprio Due colpi così E muoiono E ma perché ragazzi Mi sa che Siamo troppo avanti Con il livello Siamo troppo forti Per l'uno Magnete Sorpresa Boom Bah E' troppo facile Ragazzi E' troppo facile Adesso Il sereno A livello Qua di 24 E non siamo Neanche a metà Stor Xehanort C'è ci ha seguito Razian's Garden Il giardino radioso Sicuramente Qualcuno di voi Si starà chiedendo Perché io Non abbia portato Subito La storia Di terra Beh Ragazzi E' semplice La cosa C'è Eh Questa la Devo provo a prendere dopo C'è Se avessi portato Subito Terra Sarebbe stato Tutto molto Più semplice E quanta Solo che Da come avete potuto vedere Le storie di Acqua E Ventus Sono molto più semplici Da portare O meglio Non hanno Richieste particolari Per I Diari Come E' stato Per Appunto qui Terra Terra Otteniamo i diari Si ok Dobbiamo finire i vari mondi Però c'è una pagina Del diario Che richiede La Il completamento Della Missione All'arena Del miraggio Chi è? Ah Merlino Why can't I ever seem To remember This address Exactly Ehm Scusi eh Ho capito Sua anzianità Winnie the pool I'm very sad to say Non so come faccio ad aumentare i nostri poteri Libro di Winnie the pool Ma Proviamo Controlliamo Odè Vabbè L'unico Ma nel bosco Dei centavacri Oh Siamo diventati potentissimi Cioè Proprio Via tutti Comanda terra 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 Ah ecco MAPPA Spaa Sponk Stavolta mi sono Spaa Immondi Ce ne manca Uh Questi Fatemeli fare fuori Perché Mi servono BAM Sorpresa Energira Livello 3 Tu stai per scoppiare Ho scoppiato Sì Ho fatto questo Nascence Che Allora E I panacea Mi ricordavo che I panacea Erano molto utili In Final Fantasy Ora Non vorrei dire Una cagata Però Di là Non posso andare Vero Al momento No BAM I I I La vita Sta fontanella È chiuda Quindi Là Non posso andare Andiamo eh No Aspetta Eh no È troppo Ah no Sì Ci arriviamo Ci siamo arrivati Ci siamo arrivati Ma I Dellette È andata sul muro È andata la magia Da dietro al minorella Non c'è qui nessuno Terra Blitz Blitz Tonante Uh Utile E perché voglio Decidere più Nascence Possibili Mi pare che mi servono Per Una cosa che poi Vi spiegherò Dopo O meglio Più avanti Comunque vi stavo Dicendo che dovreste Svolgere La missione Dell'arena Miraggio Per ottenere La pagina di Xehanort La missione Quella di Grado 2 Allora con le stelle Denominata Sorvegliante Superata quella Vi dovrebbe droppare Almeno con terra A quanto so Una pagina Del diario di Xehanort L'unica delle pagine Che non sottengono Lungo la storia Praticamente Io tranquillamente Io lì al boss Ci arrivo Ma È abbastanza strunto Come boss Anzi Ho faticato più A battere In quell'incontro Ma ancora Non sono riuscito A tirarlo giù Che nei boss Di storia Cioè I boss di storia Sono Cioè Sono veramente Delle bazzeccole In confronto Uh Livello 24 Magie potenziate Qua ragazzi Si va avanti Che è una Meraviglia E lì c'è una Cassa Uccidiamoli tutti Questi Qua io non ci avevo mai fatto caso Neanche con Ventus Mi pare che l'ho presa La cassa qua dietro L'ho trovata per puro caso Con Acqua ieri sera Mentre Uh Blackout Mentre Esploravo qua I paraggi Non è che ci serva Più di tanto Eccoci qua Ed ecco qui Dobbiamo affrontare Nuovamente Il mega Zord Configgi Nesce Con l'aiuto Degli altri Come volete No non posso usare Il milione di Vabbè vabbè Aiaa Questo non l'avevi Mai fatto Però Oh Vabbè Vabbè dai La prima Testa È praticamente Andata Wow Non mai tolto Niente Faccia di Aiaa Dai togliamogli le gambe Dai ragazzi Uh Ah Ogni volta Aiaa Ma io Vabbè Maglete qua Non serve un cazzo Blizzard Blizzard ben che meno Solo lì No Queste Via i piedi Che putzano Dovete levargli i piedi Forza Olè E adesso Dobbiamo levargli le mani Che sono quelle cose lì Che girano Ho riuscito a tagliarli anche qui Boom Stacca il mio BAM BAM Sei quasi all'ultima attacca Caro Grazie della vita Battuto Mamma mia Quanto è stato facile Stavolta Ho sfodato di più Con acqua Vabbè Che acqua Ben Ben Come on Ben 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 crociato Io che mi metto a dare I nomi alle mosse Qua Battuto Cuore Got'em Abbiamo un buon team Suurdo Oh Oh Yeah I got you these tickets For what? Lifetime pass is to Disneytown He said to He said to take two grown-ups Non. 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 terra please listen the master has no reason to distrust you really he was just worried oh le villetto disney grazie master zaynor is the only one I can still count on oh you must be terra it's that old coot he won't stop asking for you I came all the way out here to get you just so he'd clam up what do you mean ha do I have to spell it out zaynor whatever he's called you know my prisoner you're apparently not a very good liar master zaynor would never let himself be caught by a thug like you as if I got the old coot in my mercy see for yourself I'm holding him underneath the outer gardens better show up for lose my patience ciao ciao via italiano there's no way it's true but no harm in looking ok ragazzi continuiamo qua c'è qualcosa qualche cassa no eh qui casse no ma stronzoni appalati si eh mi sa tanto di battaglia boss eh qui dentro uh cassa qui non c'è nessuno però è dietro master zaynor the old coot certainly knows how to take punishment just like I know how to deal it out you monster what are you after that thing right there it's called the keyblade isn't it yeah seems like these days everybody's got one of those even grandpa there when I nabbed he told me all about it what a weapon like that can do how could I not want one but you'll find they're picky about their owners huh if I heard the old guy right you're what they call keyblade master material so if I defeat you that makes me the real key slinger if you catch my drift not the most likely but what can you do one more step in the cook goes boom you think I'm gonna fight fair as if that is too powerful for us to go mano a mano però non vale for a keyblade master you're not very what's the word good what are you doing tarot fight but master you'll never mind me you must fight you can't let this ruffian win think of your master the same here your fellow pupils will be forth to bear use the keyblade you can't fight you can't fight oh my god so much for the love ecco io lo sapevo che c'era bryg come scontro boss mi sembrava strano e nel senso non è che sapevo che ci fosse stato lu che merda così è l'ultima tacca caro bene clausia incoming it's formal come on oh victor ah quando fai il reload io ti posso attaccare levi ormai ho capito come sei battuto ora più comandi nella console è stato facile boom libero libero eh scappa il codardo libero 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 Vendus, tu see, è così freddo di scuola che ha anche scusato. Non a scuola, ma a scuola. Il si trova così bright, che lo scuola che la scuola begete scuola. E per Acqua e Vendus, loro scuola molto più brillo. È solo naturalmente che casti scuola sui le loro pezzi. Per me è una vera. Eragus... è un po' di questo! Light e la scuola... sono una relazione. Una che deve sempre mantenere. Terra... Tu sei la persona che presta la vera del Signore. Ma non è non lo vera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so perché ma ha un qualcosa di familiare tipo passa al lato oscuro della forza. Hai ottenuto volé oscura? Sì! Diario di Xehanort 2. Olé! Terra! Grazie a tutti! Non posso fare questo, Venn. Cosa non? Solo... Quando ho davvero bisogno, Venn, vedo che tu sarai lì. Beh, perché non mi sarebbe? Tu sei il mio amico. Si, tu è certo. Grazie, Venn. Hey, tu sei un coote! Un coote, eh? Tu hai detto che non mi sarebbe mai scoperto. Non ho signato per essere collaterale. Noi, come se! Come se! No... Ok, 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 ok! Ape Just put that down you still need me you still need me to do something right And all I'm asking is that you hold up your end of the bargain Yeah, I mean what's a little scratch on my face aren't all things considered I'm just lucky you didn't steal my heart like princess, whatever it was. I would have ruined my week for sure Unlikely a powerful light still lives inside of Terra You see people like him. They don't have the power to steal hearts So wait you mean he's not the one who stole her heart Ciao Belly